Cari tutti, buongiorno, sono sempre io, Simone Aliprandi, un avvocato, un divulgatore, mi occupo di diritto del proprietario intellettuale e diritto delle nuove tecnologie. Proseguiamo con i nostri video a tema blockchain e NFT, proprio collegandoci a quello che abbiamo detto nel precedente video, ovvero del caso in cui un autore crea un NFT di una sua opera pur non avendone il diritto, perché, come abbiamo spiegato, il diritto d'autore può essere ceduto e in modo anche molto radicale, quindi una cessione in via esclusiva ad un altro soggetto e quindi in quel momento, finché dura questo contratto di cessione, anche l'autore, anche se è colui che ha creato l'opera, perde il controllo della sua opera, perde la titolarità dei diritti di utilizzazione economica, rimane titolare di quelli cosiddetti morali, però abbiamo spiegato che creare un NFT è indubbiamente un'attività invece mirata all'assolutamente economico e quindi bisognerebbe chiedersi appunto se quell'NFT firmato, creato dall'autore, sia stato in realtà autorizzato e emesso con il benestare della casettrice o del soggetto che comunque ha acquisito i diritti. Primo problema. Altro problema che molti esperti di criptografia, tecnologia, molto più esperti di me in quel tema, hanno segnalato è il fatto che spesso per come funzionano le piattaforme in cui vengono diffusi gli NFT, noi non troviamo davvero diciamo all'interno del token caricato sulla blockchain l'opera come dovrebbe essere. L'esempio che abbiamo fatto noi, c'è questo signor Dante Lighieri, crea il token, cioè crea la sua opera, la tokenizza, cioè la mette in questa busta, la criptografata, la inserisce, la mette, la infila sulla blockchain e quindi diventa un'opera digitale come tutte ovviamente ma anche tokenizzata e quindi caricata sulla blockchain e NFT quindi come dire una sorta di opera al portatore con tanto di firma dell'autore che la rende copia unica, data e firma. Eh, piccolo problema, se però io aprendo la busta, invece di trovarci dentro l'opera vera e propria, quindi la tiriamo via, io mi trovassi dentro solamente questo, vediamo se è rimasto dentro, esatto, cioè un bel indirizzo web, un www.alighieri.it.nft cioè non trovo davvero dentro l'opera ma trovo l'indirizzo in cui si trova l'opera che però sta altrove, non sta davvero sulla blockchain, non è caricata davvero sulla blockchain, cioè sta su un server web classico, tradizionale. Questo è uno dei più grossi problemi di questi, diciamo di tutto questo mercato degli NFT legati al mondo delle opere creative che sta, come dire, esplodendo con una velocità tale per cui sarei abbastanza cauto, ecco, terrei un po' a freno gli entusiasmi perché appunto rischiamo di comprare delle sole, come direbbero Roma, delle fregature, perché? Perché se poi aprendo la busta noi troviamo un semplice indirizzo, un semplice indirizzo telematico che mi manda a un server che non gestisco io, non posso controllare e che non è legato alla blockchain e quindi non ci sono le garanzie tipiche degli smart contract caricate sulla blockchain, allora mi sposto, vado ad aprire questo link e trovo che in quel link non c'è quello che io pensavo di aver comprato, ok, in forma di NFT. È un problema abbastanza sostanziale, spero che prima o poi qualcuno apra gli occhi e segnali questa situazione, insomma, e si abbassi un po' l'enfasi e l'entusiasmo che c'è relativamente a queste piattaforme che ospitano gli NFT, anche quando gli NFT sono di valore molto molto dubbio. Ok, lancio questa riflessione, so che alcuni invece non sono d'accordo, sono tutti molto entusiasti, quindi sicuramente avrete da dire, scrivetelo pure nei commenti e cercheremo di approfondire e parlarne. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!